Pizzi scrive al presidente del Lanci, Antonio De Caro, il tema alla Tari. Al collega sindaco di Bari chiede di fare pressing sul governo perché vi possa essere il posticipo del versamento della seconda rata Tari. Il sindaco domese è convinto che solo una decisione romana possa aiutare i comuni ad adottare il giusto provvedimento. Il primo cittadino di Domodossola nella missiva inviata a De Caro elenca quanto fatto dalla sua amministrazione a sostegno del commercio locale a seguito della prima chiusura delle attività. Abbiamo, scrive, provveduto a rinviare dal 16 giugno al 16 novembre i termini per il versamento della prima rata Tari relativa all'anno in corso e ad applicare una riduzione a quelle utenze non domestiche cui Stato e Regione hanno imposto dei periodi obbligatori di sospensione dell'attività. Poi dettaglia quanto approvato di recente nel Consiglio Comunale del 30 settembre scorso. Per poter espletare tutti gli atti conseguenti e basata necessariamente sui periodi di sospensione ad allora definiti, è stata applicata sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa, in misura almeno pari alla percentuale dei giorni di chiusura obbligatoria delle specifiche attività su base annua. Domodossola ha quindi individuato scaglioni diversi a seconda della durata della chiusura. Nello specifico, spiega Pizzi, sono stati applicati i seguenti sconti, meno 15% alla parte fissa e variabile delle utenze con attività sospesa fino al 25% dei giorni dell'anno, meno 25% alla parte fissa e variabile delle utenze con attività sospesa fino al 25% dei giorni dell'anno, meno 30% alla parte fissa e variabile delle utenze con attività sospesa fino al 30% dei giorni dell'anno, meno 70% alla parte fissa e variabile delle utenze con attività sospesa più a lungo. Tutto ciò, finora, a carico dell'amministrazione comunale, in quanto Consalvicio SPA non ha ancora riconosciuto alcuna riduzione della sua tariffa in base al minor servizio reso nel periodo di lockdown.